auguri e bentornati dal vostro luigi frio 85 salve a tutti buonasera accolgo l'occasione per farvi i miei più sentiti auguri di buona pasqua a tutti quanti tutti ai miei followers tutti coloro che mi vogliono bene che mi seguono e se non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi e ne vedete delle belle visto che siamo a pasqua siamo tutti più buoni forse era natale però ragazzi vi ho appena detto che ne vedete delle belle beh più bella di questa guardate un po benissimo iniziamo bene la pasqua e comunque era solo uno scherzo auguri di buona pasqua a tutti voi e le vostre famiglie amici e tutti quanti quindi seguitemi ancora sul canale dopo pasqua arriveranno un sacco di video promesso nuovi come avevo già pronunciato nell'altro video e sanità cultura cucina torneremo anche con quell'argomento lì faremo un po di tutto quindi a tutti voi auguri di buona pasqua ciao